Anche Napoli ricorda la strage di Capaci, il terribile attentato del 23 maggio 1992 in cui furono uccisi il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Il sindaco Luigi De Magistris ha deposto una corona di fiori sulla lapide dell'albero della legalità che ricorda le cinque vittime. Bisogna cercare, perseverare, lottare per la verità delle strage del nostro paese, di quelle del periodo eversivo dell'AP2, le strage di mafia. La verità fino in fondo non si conosce ancora e chi la cerca viene ostacolato quotidianamente. Questo fa capire quanti ricatti ci sono nel nostro paese, quanti lati oscuri, quanto le mafie sono penetrate nella politica e nelle istituzioni. Questa è l'emergenza del nostro paese ma evidentemente si vuole nascondere questo aspetto, è un tema di cui non si vuole parlare, bisogna tenerlo sempre un po' nascosto. Invece l'attenzione deve essere altissima, altrimenti chi lotta per la verità viene fermato e non te ne accorgi nemmeno perché ormai si usa il tritolo istituzionale, non più il tritolo come a Capace e a Via D'Amelio.